Questo è un messaggio da parte di cara dolce Rosa Maria. Rosa Maria. Questa sorella che era adventista, adesso è una gesuvista. Adesso è una figlia, solo cristiana è vasta. Dice, cari fratelli in Cristo, mio fratello marito Gino. Ok, un dolce fratello, ma è beati che c'ha per mariti che hanno fratelli e per mogli che hanno sorelle. E la vita è molto più bella. Mio fratello marito Gino vorrebbe capire Daniele 10, versetti 13 e 14 e poi 20. Carangela, puoi dire a fratello Giuseppe di spiegarlo? Grazie, amen. Ok, dimelo allora. Daniele 10, dillo a fratello Giuseppe. Ti leggo Daniele 10, 13, 14 e 20. Ma il capo del regno di Persia mi ha resistito 21 giorni. Però Michele, uno dei primi capi, è venuto in mio soccorso e io sono rimasto là presso il re di Persia. Ora sono venuto a farti conoscere ciò che avverrà al tuo popolo negli ultimi giorni, perché è ancora una visione che concerne l'avvenire. 20. E gli disse, sai perché sono venuto da te? Ora torno a lottare contro il re di Persia e quando uscirò a combattere verrà il principe di Grecia. Ok, Fesini 2, 2. Dagli questa scrittura a questa sorella, guarda. Fesini 2, verso 2. Sì. Ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potenza dell'aria, di quello spirito che opera oggi negli uomini ribelli? Ok, allora cominciamo da questo passo. Quindi qui vediamo che il diavolo è chiamato principe della potenza dell'aria, va bene? Sì. Quindi lo spirito dell'anticristo è nell'aria. Però qui in questa profezia parla del re di Persia, il principe di Grecia e così via, il capo del regno di Persia. Cosa significa? Si tratta di demoni assegnati, attenzione, assegnati dal diavolo a dominare la terra. I quali demoni non volevano, questi principi demoni, non volevano che le rivelazioni di Dio giungessero attraverso questi angeli a Daniele e quindi a noi oggi, fino a noi. Quindi questi demoni che erano assegnati da Satana come capi di questi imperi, di queste nazioni, lottavano contro l'angelo che veniva dal cielo per fermarlo dall'andare da Daniele. Capisce? Un po' come quando il diavolo ha detto a Gesù se mi adoro e ti do il mondo. Quindi questi demoni che adorano Satana, il diavolo gli assegna una nazione, un regno, un impero. Allora il principe, cioè il re di Persia era il demone che dominava l'impero mondiale vigente del tempo, al tempo delle profezie di Daniele nei capitoli 11 e 12, perché Daniele ha passato attraverso tre regni. Prima era sotto il regno di Babilonia, poi sotto il regno di Dario, Daniele capitolo 6, e poi sotto il regno di Persiano di Ciro, Daniele capitolo 10. Daniele ha passato sotto tre imperi, tre regni, capisce? Allora, quindi vediamo che il principe di Grecia era il seguente demone in linea di successione. Dopo la Persia? Sì, il tempo di questa profezie era 550 a.C. e quindi c'era la Persia. Ok. Però il regno seguente dopo la Persia era l'impero mondiale greco, guidato da Alessandro il Grande, che nel 333 a.C. ha conquistato il mondo. Quindi c'era il demone assegnato da Satana che avrebbe guidato l'impero di Alessandro e quindi anche questo demone, questo principe, era interessato a che queste profezie non giungessero. Ah. Si capisce? Quindi tutti e due questi principi demoni incaricati di questi regni combattevano contro l'angelo di Dio e hanno perso. Sì. Quindi questo è quello che succede. Anche oggi le potenze regnanti nel mondo hanno dei demoni, demoni principi che dominano le potenze principali del mondo. Ti faccio un esempio, ci sono diversi demoni principi che guidano gli Stati Uniti, un altro demone che guida la Russia, un altro che guida l'Unione Europea, un altro demone è un principe che guida il sistema bancario mondiale, c'è un demone assegnato ai media, un demone per l'Hollywood e così via. Ci siamo? Sì. C'è il demone dell'omosessualità, il demone della chiesa dell'Odicea che tiene le chiese addormentate. Insomma, ogni punto importante c'è il demone della droga, ogni punto importante c'è un demone assegnato da Satana per mantenere questo potere malefico su questi punti nevralgici del mondo, politici, bancari, militari, mediatici e così via. Guarda, legge Efesini 6,12. Dagli questa scrittura. Efesini 6,12. Il nostro combattimento infatti non è contro sangue e carne, ma contro i principati, contro le potenze, contro i dominatori di questo mondo di tenebre, contro le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Ok, quindi Colossesi 1,13. Quindi noi stiamo combattendo contro questi demoni. Sì, è chiaro. E' inutile ai fratelli che mettete la fede votare per questo ministro, votare per questo partito, sono tutta una manica, sono tutta un branco. Cioè dare le radici come ha fatto Gesù, combattere contro il diavolo, contro il male, contro le tenebre, con la luce, con il Vangelo, con l'amore, con l'evangelizzazione. Per questo è che noi siamo così fanatici dell'evangelizzazione. L'evangelizzazione c'è tutta. La cosa è che più da fastidio è il diavolo, più fastidio che gli dà. E l'evangelizzazione non sono le preghiere stupide a pappagallo. Cosa vuole gli interessi del diavolo è lì che prega insieme a noi, se preghiamo come pappagallini. Alzarsi dalle panchine, andare come Gesù nelle strade. E' questo che distrugge il diavolo. Quando converte una persona, una persona convertita, vale meglio, vale più che mille partiti politici che vincono le elezioni. E' la conversione delle anime strappante dalle catene, dalla morte, dalla perdizione che sconfigge il diavolo. Quando io mi sono salvato, quando tu ti sei salvata, cosa ti interessava? Cosa ti interessa a te che vincevo questo partito politico e tu rimanevi perduta? Niente. Ci siamo? Il miglior partito politico del mondo non salverà nessuna anima, non metterà nessuna legge che le anime si salvino. Per questo che le chiese sono lì, io vedo questi grandi leader religiosi, a parlare di cose sociali. Va bene? Allora, ce l'hai? Sì. Allora, Daniele 10, si tratta di un combattimento spirituale tra Michele e il re di Persia e il principe di Grecia, che sono demoni, che volevano fermare le profezie, che non arrivassero a Daniele. Volevano fermare il messaggero, l'angelo che portava le profezie. Infatti queste profezie di Daniele sono preziosissime per me. Ah, caspiterina, sono a braccetto con l'Apocalisse, le insegniamo sempre in parallelo. Va bene? Ammè. Vada, cosa c'è? Colossesi 1,13. 1,13, sì. Dio ci ha liberati dal potere delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del suo amato figlio. Ammè, Giovanni 12,31. Allora, quindi, vedi, quando riceviamo Gesù Cristo usciamo dal potere delle tenebre ed entriamo nel regno di Cristo. Ora, chi di noi ha fede in Cristo e nel potere che egli ci ha dato tramite lo Spirito Santo, attenzione, siamo noi e non più il diavolo ad avere potere su tutto il mondo. Noi possiamo fermare la tempesta, possiamo fermare un terremoto, possiamo fermare un incendio, possiamo fermare i demoni, possiamo comandare la natura perché abbiamo Gesù Cristo. Tutti i miracoli che ha fatto Gesù noi possiamo fare di più, risuscitare più morti, possiamo fermare le tempeste. So di cristiani che sono in Indonesia hanno camminato sull'acqua per raggiungere un villaggio da evangelizzare. So di cristiani che hanno risuscitato più di venti morti. Wow. Ok? Possiamo guarire, miracolosamente. Capito? Abbiamo il potere di Dio, possiamo fare tutto se ci applichiamo. Va bene? Ammè, ammè. Cosa c'hai lì? Giovanni 12,31. Ora avviene il giudizio di questo mondo. Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. Ammè, un altro, secondo Pietro 1,10. Capito cosa hai letto qui? Sì. Ora sarà cacciato fuori il principe di questo mondo. Cosa significa? Significa, fratelli, per favore aprire bene il radar, le antenne paraboliche. Significa che il principe di questo mondo, il diavolo, ok? Duemila anni fa risale questo messaggio di Gesù, abbiamo letto in Giovanni 12,31. Duemila anni fa, in Giovanni 12,31 dice che ora, dice Gesù, adesso è cacciato fuori il principe di questo mondo. Cioè il diavolo, attenzione, ha già perso, è già sconfitto. Grazie Gesù. E' già sotto i nostri piedi, Romani 16,20. Romani 16,20 è sotto i nostri piedi, duemila anni fa, va bene? Sì. Quindi cerchiamo che ci entri nella zucca che abbiamo potere sul diavolo, abbiamo potere sulle malattie, abbiamo potere, possiamo fare guarigioni miracolose. Io ne ho viste molte, qui le vediamo spesso, la maggioranza della gente che preghiamo guariscono e non sono il solo, ci sono guaritori nel mondo che guariscono più di me. Non è che stiamo innalzando, che stiamo facendo il fratello Giuseppe, che cosa ci interessa? No, ci sono meglio di noi, sì. Tutti noi abbiamo potere di fare guarigioni. Amen, grazie Signore. Che ci accusano che voi state innalzando, non stiamo innalzando niente, noi siamo nessuno, però stiamo sì innalzando Gesù, sì innalzando la sua parola, innalzando il Vangelo. Noi siamo gli ultimi di apostoli, il minimo dei santi, amen, nel nome di Gesù Cristo, amen. C'è una scrittura lì? Hai detto secondo Pietro 1? 1,10 e 11. Perciò fratelli, impegnatevi sempre di più a rendersi cura la vostra vocazione ed elezione, perché così facendo non inciamperete mai. In questo modo, infatti, vi sarà ampiamente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo. Alleluia, vediamo un altro, Ebrei 4,16. Quindi, gloria al Signore. Se facciamo così, dice Pietro, non inciamperete mai, dice il nostro fratello Pietro. Dolce fratello Pietro. Grazie, Gesù. Ebrei 4,16. Ok, e non chiamate Pietro il primo Papa, perché nessuno l'ha mai chiamato padre a Pietro. che era un apostolo, era un discepolo, quindi per favore non cambiamo la Bibbia, non era il Papa. Era un apostolo, un discepolo, un fratello in Cristo. Amen. E quindi non idolatriamo i fratelli cristiani prima di noi. Ebrei 4,16. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia, per ottenere misericordia e trovare grazia ad essere soccorsi al momento opportuno. Ok, e questo fratello Paolo ci dice, senza paura accostarsi al trono di grazia per ottenere misericordia. Non servono l'ausiliatore, l'ausiliatrice, la mediatrice, la bla bla ittrice. Serve Cristo, serve Gesù, serve un po' di fede, serve credere. Va bene? Angelina, a te il microfono. Grazie.